Ha fatto tappa a Nuoro il team del Barber College Italia che propone una nuova modalità di interpretare un mestiere antico come quello del barbiere utilizzando gli strumenti social al fine di divulgare la propria filosofia di lavoro. A guidare il team Giancarlo Palmieri, CEO di Barber College Italia, la due giorni nuorese denominata Razor Bird ha visto la partecipazione di professionisti del settore che hanno voluto conoscere e apprendere le tecniche e la filosofia operativa del Barber College. Oggi siamo a Nuoro per volere del nostro capitano che è Vanessa Brau, una barber lady di Nuoro che da sempre frequenta la nostra formazione e non potevamo non onorare la Sardegna visto che per anni siamo stati anche nel capoluogo Cagliari. Questa volta abbiamo pensato di venire a rendere omaggio a tutta la Sardegna del Nord e Nuoro e grazie anche alla struttura qui di Exime ci ha permesso la possibilità di essere oggi e domani presenti in questa bellissima cittadina. Noi facciamo fondamentalmente formazioni in barberia che ha poco a che vedere con la formazione maschile perché spesso si intende il maschile la cosiddetta taglio anglosassone inglese. Noi invece facciamo una barberia un po' più di strada, un po' più stretta, quindi posizionata molto molto su un target di ragazzi. E poi grazie anche a delle tecniche di barba molto elevate che noi abbiamo qui il piacere di avere tre barber importanti del Barber College, lo scultore Federico Antonelli, il lord barber Marco Artesi e il pittore Salvo Corigliano. Grazie a questo mix di esperienze riusciamo a dare anche all'uomo elegante quel look barba molto molto trend e molto molto elegante.